Musica Ok Seed, in che cavolo di situazione ti sei andato a cacciare? Lo sei solamente tu, io intanto, prima di venire a controllarti ovviamente, giro tutta quanta la zona, mi prendo i sassi che sono necessari Ok, mi ricorda, mi ricorda anche un po' questa zona, tra l'altro io, ok no non ci arriva la corda Mi ricorda un po' la zona quella del vulcano di Madadaskar 2 Mi ricorda un po' anche la zona del, eh ho sbagliato in realtà, volevo, mi sono dimenticato che non posso fare gli attacchi in salto in questo gioco Mi ricorda la zona del vulcano, che tra l'altro, manca volerlo fare apposta quella zona, me l'hanno segnalata per copyright per via delle musiche Ok, ma io per coprire il copyright in quella zona ho cercato di cantarci sopra il più possibile Con purtroppo scarsi risultati, ma non canori, proprio a livello di copyright La musica si sentiva fin troppo bene e quindi di conseguenza, ciaone, copyright e via Per fortuna dai, almeno non mi ha dato problemi Io intanto continuo a girare perché siamo, guarda, onestamente non mi ricordo veramente, uh grazie Da bambino cosa mi bloccò, ma sono sicuro al 100% di ormai Sento ragni che fanno cose Sono sicuro ormai al 100% di aver superato quel pezzo che mi bloccò appunto da bambino Cosa ho preso? Quel pezzo che mi bloccò da bambino Sono sicuro al 100% che questa parte qua io non l'avevo raggiunta Sicurissimo, dove sei? Ah, grazie Allora, di qua non mi sembra io possa fare niente, giusto, sì Ma i ragni, sì, saranno sicuramente là sopra Quindi il mio obiettivo è Scendere qua sotto per poi risalire dall'altra parte, ovvio Però sarà anche entrare da quella, ti giuro che penso fosse una salita Sarà arrivare da quel Non ho minimamente visto il piccolo spazio Cioè, sapevo che dovevo fare un salto Non pensavo che mi avrebbe ucciso la cosa Ok, ti ringrazio Ma morire in questo gioco ha dei malus Cioè, perdo qualcosa Qua è totalmente colpa mia Perché nel fare la curva l'ho presa larghissima Scusami, Scrat, scusami Ah, aspetta No, scusa Si sono ricaricate le ghiande che erano qui O sono scemo io? Boh, chi lo sa Comunque, qua sicuramente dobbiamo fare qualcosa, vero? Ciao di nuovo, fratello Bella Per terminare la cerimonia per il dio del fuoco Bisogna accendere il fallò sulla montagna e farlo andare alla grande Ehi, con la tua coda in fiamme potresti far prendere fuoco all'acquavite Così quando ti muovi farai Guarda, sono certo che c'è una noce squisita anche lassù, fratello Bella Quindi mi devo fare tutto il giro Col culo che mi brucia Per poter avere qualcosa in cambio Non pensavo di essere in Italia Scusate il sarcasmo Allora Prima ovviamente di farci il percorso Ovviamente a tempo Visto che Ok, no, di qua devo farmi il percorso Ovviamente a tempo Visto che andrò in fiamme Io prima Mi vado a raccogliere Tutta la roba Di qua si passa? Di qua si passa? Ok Onesto pensavo mi sarebbe servita La ghianda Per poter passare Quindi, quindi, quindi Allora, questo forse è uno shortcut Per arrivare prima in cima Questo sarà uno shortcut Per arrivare prima in cima Ah, ok Io però non mi Allora Queste pareti Se sali Poi però non ti puoi muovere Dove ti infili Ti infili Allora È probabile che ci siano molti modi Per arrivare in cima Ma solo uno È quello più veloce Diciamo E guarda un po' il caso In questo C'era anche Un nemico C'era anche Un nemico Allora Questa è Un vicolo cieco Questo è un vicolo cieco Anzi no Mi sa che questa è una zona In più No, non è vero Forse, forse Aspetta che si prosegue Forse in realtà Si può andare avanti Anche da questa parte Vediamo se ci arriviamo in cima Ok, ci arriviamo La statua È questa qua E questa quindi È l'acquavite Perfetto Beh, perfetto Sappiamo già Qual è la via Sappiamo già Come arrivare in cima Abbiamo evitato Il ragno Fastidioso Vabbè qua Ci saliamo dopo Che sicuramente Sarà per proseguire Vai Io scendo Dio mio Ti giuro che non Pensavo di aver Buggato tutto Allora Fermi un attimo Perché prima di proseguire Esatto Voglio solo vedere Questo pezzettino Di strada Se mi porta Da qualche parte Oppure no Ok, no La strada è una sola Scherzavo Pensavo ci fosse Una biforcazione Dall'altra parte D'accordo Allora Adesso modalità speedrun Giusto? Dai Accendiamoci la coda Dicevo Accendiamoci la coda Corri, corri, corri Corri Maledizione Vai, vai, vai Non ti bloccare In mezzo alle rocce Vai che è una sfida a tempo Stai bruciando Scherzat Stai bruciando Bruci come Il sole Del mattino Spero di farcela In teoria Il tempo è giusto Dovrei Avere problemi No Ok Vai, vai, vai Perfetto Ok Abbiamo già Tagliato un sacco Di pezzi Ed eccoci qua La grande montagna Ora è stata accesa Grazie per la noce Grazie per la noce Perfetto Bella Cercavano Cercavano di colpirmi Progo Che non mi andava Che non mi andava Di rifarmi Di nuovo Tutto il percorso Ok Ecco qua Roba da sniffare Niente No Zero Ok E allora Dov'è Il buco Ah Eccoti qua Eccola di nuovo Qua la discesa Possiamo tornare indietro Allora Ok Ci siamo quasi Quindi Siamo sempre più vicini Alla fine È il momento Sit Devi essere sacrificato Al dio del fuoco Tu sarai il sacrificio Per Lord Gwyn Volete che balli Ancora un po' Ma perché 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 sei andato anche tu Scusami Non c'era nessun motivo Per cui Scrat Dovesse andarci Sì Dio mio L'inferno Sembra un livello Uscito da Dante's Inferno Tutto ciò Madonna mia Vabbè Ci manca veramente Poco Per arrivare Alle nostre Mille ghiande Ora Ma guardalo Le terre di Mi ricorda anche Un po' Dragon Age Quando vai Nelle vie profonde Dio mio No Non ciò Sono Poco No Non ciò Mille ghiande